buona domenica a tutti e ben ritornati sul mio canale tutto dal web ieri sera è scoppiato un litigio tra stefano miele giuseppe garibaldi in quanto quest'ultimo ha pronunciato una frase infelice sui gay anita olivieri tenta di difenderlo ma secondo il web ha fatto solo danni perché scopriamole insieme nella serata di ieri giuseppe ha fatto un'esternazione che non è piaciuta stefano parlando infatti delle persone omosessuali il concorrente ha affermato di avere tanti amici gay e questo ha aperto un dibattito con stefano a tentare quindi di difendere l'amico ci ha pensato anita olivieri la quale però è stata criticata allo stesso modo perché perché ha cercato di difendere giuseppe ma in un modo un po particolare perché ha parlato della sua ignoranza considerando il luogo dove garibaldi è cresciuto ossia un paesino del sud italia la calabria infatti dice lui vive in un paese può migliorare ma non capisce non nel modo cattivo lo voglio dire lui non vive a milano capito vive nel suo contesto ristretto con gli amici anita rincara la dose e continua a dire non viene da milano che una città futuristica e non ha a che fare tutti i giorni con queste cose secondo lei uno dei più grandi pregi giuseppe quello di sapere i suoi limiti ma non dice nulla contro la cattiveria così come possiamo vedere infatti dai video che stanno girando online ha fatto anche un discorso con sergio che non è stato molto apprezzato soprattutto perché ha affermato che uomo e persona sono dei verbi facendo così una gaffe che non è stata perdonata dal web e voi cosa ne pensate scrivetevelo giù nei commenti lascia un mio like se ti va e iscriviti al mio canale ciao e alla prossima